buonasera andiamo bene per roma di qua come no si è andiamo a roma a protestare ma ci stonda vedi io sono un sindaco sto andando dalla provincia di bologna fino a andiamo a protestare martedì andiamo da renzi a protestare per italia i comuni grazie buona serata su facebook bene la saluto le stringo la mano come si chiama lei no solo il nome di battesimo solo il nome di battesimo buonasera la saluto lei come si chiama invece lei come si chiama teresa la saluto teresa stia bene grazie state bene arrivederci